Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra Incisa Reggello e Valdarno sulla A11 code per traffico intenso in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Sul raccordo Lucca-Viareggio due chilometri di coda tra Massarosa e Lucca Ovest in direzione Lucca. Sulla Vipili un chilometro di coda tra La Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze per traffico intenso. La viabilità cittadina a Firenze via del Chiassone chiusa a causa di un muro pericolante. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!